Benvenuto su Caravan Trip, il canale dove quasi tutti i martedì parliamo di caravan, fai-da-te e recensione di accessori e attrezzature da campeggio e vacanze pre-neia. E dovresti iscriverti al canale se non vuoi perderti tutte le novità di questo settore. Ed oggi vediamo come costruire un nuovo pavimento per la nostra caravan. Prima di tutto reperiamo dei vecchi giornali e del nastro di carta da carrozziere per realizzare la dima del pavimento. Disegniamo sul linoleum la forma del pavimento con una matita ed una squadra. Grazie a tutti. Disegnata la sagoma del pavimento, ritagliamola con una forbice o cutter. Grazie a tutti. Riposizioniamo ora il nuovo pavimento sulla caravan ed il gioco è fatto. Per questo è tutto. Se il video ti è piaciuto clicca su mi piace e facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Ma soprattutto se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per non perdere tutte le puntate di Caravan Trips quasi tutti i martedì alle ore 18.